un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su limbo allora l'ultima volta siamo rimasti in questo enigma dove c'è un laser praticamente che noi saltiamo però il laser continua è anche qui ok a una certa parte allora scusate un attimo proviamo a fare a saltare praticamente se si attiva il laser inizia a strappare quindi ci buttiamo giù muore e basta allora se lo attivo e risalgo cosa succede a sparano tipo sono mitra uno si sposta e distrugge allora devo distruggere con questo mitra l'altro mitra ok quando stiamo qua vicino porca troia però ho capito come si fa oh cazzo forse più volte dovrà passarci sopra ok perfetto non ho più hit perfetto allora ho dato questo pezzo che alla fine era più semplice di quello che che potevo pensare ok abbiamo una scala da quella parte che non penso possa essere salita ora poi abbiamo questa cosa qui vediamo cosa succede ok si inverte la gravità di cosa tra poco torna giù ok ok una scala una scala una scala allora così vediamo giù qua ok ok poi lo porto indietro fin là o no no fuck 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 vediamo un po' nooo nooo andiamo un po' stiamo vicino dai 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 nooo nooo merda merda allora qua sicuro si deve sfruttare la discesa facciamo così quello arriverà fra poco facciamo così saltiamo andiamo avanti lo scatolone che dobbiamo afferrare per salire sopra perfetto allora saliamo qua andiamo di qua andiamo un po' qui c'è la scala che portava sotto quindi dobbiamo portare su un altro scatolone che cosa dobbiamo portare su vediamo ah è la scala ok scende la scala scende una scala e perché? perché servono entrambi gli scatoloni sotto forse dobbiamo riportare giù lo scatolone boh andiamo un attimo di qua che succede? che succede? ah forse devo portare su uno scatolone dobbiamo andare in quella porta che si apre soltanto alzando quindi dobbiamo dobbiamo tirare su uno scatolone portiamo la scatola tutta su scendiamo giù saliamo sullo scatolone ok no afferralo afferralo maledizione andiamo qua stavolta mi faccio trovare pronto a afferrarlo vaffanculo torna qui torna qui poi dobbiamo usare praticamente la stessa tecnica però dobbiamo salire invece che spingere lo scatolone quindi scendiamo giù rifacciamo fare un po' di strada a questa scatola fin sopra così abbiamo tutto il tempo di andare a prendere lo scatolone di posizionarci sui gradini quindi andiamo qua ok dai 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 afferralo afferralo perfetto perfect con questa scatola possiamo salire sopra penso no no tutte e due le scatole what the fuck tutte e due le scatole o no ah no devo salire qui sopra e far missare dalla calamita sicuramente allora vabbè si mollati andiamo di qua rispingo di nuovo in alto lo scatolone dai perfetto saliamo 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 veloce 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 salta qua sopra vai yeah ce l'abbiamo fatta perfetto direi perfetto E quindi qui ci ritroviamo In un nuovo enigma Ma Direi che per questo episodio È tutto Quindi lasciate un bel like se il video vi è piaciuto Lasciate anche un commento Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo episodio Io vi saluto e ci vediamo come sempre Nel prossimo video Ciao